Di Piero giunta, Virtus si spica a 0, Ionic FC 4. Questo è il risultato finale al Consales di Rosolini scaturito nei 65 minuti di gioco e non nei 90 minuti. La partita infatti si è chiusa al 65esimo perché la squadra Virtusina è rimasta in 6 nel rettangolo di gioco e l'arbitro ha fischiato la fine dell'incontro. Diciamo subito e nessuno ci può smentire che la partita è stata arbitrata da una terna non all'altezza della categoria. Due rigori regalati dall'arbitro e dalla squadra ospite hanno condizionato fortemente il risultato e l'andamento in campo delle due squadre. Al tredicesimo minuto il primo regalo dell'arbitro all'Oionica. Un fallo in area Virtusina che vede solo l'arbitro dal dischetto e Gallardo a trasformare. La Virtus cerca di reagire ma non concretizza. Al trentatresimo il raddoppio con il secondo rigore dell'Oionica. Giglio atterra in area Crifo e l'arbitro indica il dito sul dischetto ed espelle il numero 6 Virtusino. Sul dischetto si presenta Gallardo che realizza la doppietta. Al trentunesimo terzo rigore per l'Oionica. Un rigore inesistente e inventato. Il regalo natalizio che il signor Pappalardo fa alla squadra ospite è di nuovo Gallardo a segnare. Il primo tempo si chiude con il risultato di 3-0 per gli ospiti. La seconda metà di gioco, come detto prima, dura solo 65 minuti. Al quarantanovesimo il quarto gol dell'Oionica. Stavolta sua azione a realizzarlo è Pappalardo. Si assiste alla girandola delle sostituzioni e delle espulsioni Virtusine. Raggiungono anzitempo gli spogliatoi Giorgio Filpi e mister Peppe Trigilia. Gli infortuni Virtusini lasciano la Virtusispica in sei uomini. Al 65esimo, come detto all'inizio, la Virtusispica resta in sei e all'arbitro non resta che fischiare la fine dell'incontro. Non abbiamo altro da aggiungere se non, come abbiamo detto, che la partita è stata fortemente condizionata dal pessimo arbitraggio che ha favorito la squadra ospite e penalizzato fortemente la Virtusispica. Questi ragazzi Virtusini che hanno indossato la maglia giallorossa a strisce verticali agli ordini di Peppe Trigilia e Alfonso Adamo. Eir Bernat, migliore in pallari, Coria, Centani, Giglio, Gazze, Mazzola, Alfano, Rossano, Mancuso, in panchina Filpi, Vaccaro, Said, De Angelis.